Si deciderà all'onda il futuro dell'Accord Fenix, l'azienda che opera nel campo dello smaltimento e del riciclo di rifiuti elettronici, è quanto emerso ieri al termine della riunione a Roma del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, finita nel mirino della magistratura con il sequestro di quasi 5 milioni di euro, tra conti correnti, macchinari e avvisi di garanzia a tre dirigenti, accusati di indebita per cezioni di contributi statali. L'azienda, ospitata nel Tecnopolo d'Abruzzo, ex polo elettronico aquilano, dà lavoro a 55 persone e la sua sopravvivenza è importante per dare una boccata d'ossigeno al tessuto occupazionale in crisi da anni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà decidere se mantenere l'Accord Invita con una ricapitalizzazione societaria di 10 milioni di euro, prima tranche dei fondi di Invitalia, mentre avrebbero a breve dovuto essere erogati gli ulteriori 6 milioni e mezzo, necessari ribadiscono i sindacati per il prosieguo delle attività. Attività che sinora non si sono fermate nonostante l'intervento della magistratura, ma sull'arrivo della seconda tranche di finanziamenti sarà il Fondo Internazionale, che rappresenta il maggiore azionista a dire l'ultima parola. L'alternativa è riportare i libri in tribunale, mentre alleggia l'ospetto delle ingiunzioni di pagamento dei creditori. La speranza dei sindacati che da 20 anni cercano di ricollocare i lavoratori dell'ex polio elettronico rimasti disoccupati è che si trova un accordo per salvare il loro destino. 55 a oggi le persone assunte, ma l'impegno dell'Accord Fenix è sempre stato quello di arrivare ad assumere almeno 120 persone. Tra le ipotesi c'è anche quella della nomina di un commissario straordinario, che potrebbe traghettare l'azienda fino alla sua vendita, percorso avviato prima dell'inchiesta delle Fiamme Gialle. Grazie.